Sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle fornasette di Olginate in Riva Allada, trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassifeff.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Fratelli Calegari, pavimenti e rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza, fratellicalegari.it. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.